Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Le anticipazioni di Un posto al sole ci svelano che Nunzio Cammarota sarà sulle tracce di Chiara Cosa accadrà al protagonista della sob? Finalmente Un posto al sole sta tornando con le sue nuove avvincenze avventure Scopriamo insieme che cosa accadrà nelle prossime puntate della sob napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.45 su Rai 3 I protagonisti che abitano nel quartiere di Posillipo a Napoli stanno per tornare a rallegrarci le serate su Rai 3 Alcune trame sono ancora in sospeso, mentre nuove storyline faranno capolino già dai primi episodi di questa settimana La trama più avvincente certamente è quella che riguarda in questo momento Viola e Susanna, che finiranno entrambe in serio pericolo di vita Le due donne hanno subito un attentato da Lello Valsano ed Eugenio Nicotera si sentirà in parte responsabile per entrambe L'altra trama molto importante è quella che riguarda Nunzio Cammarota, disperato per la partenza di Chiara Scopriamo insieme che cosa accadrà nelle prossime puntate, perché il ragazzo non si dà per vinto Nunzio e Chiara avevano vissuto una storia d'amore con parecchi alti e bassi Tra gelosie e il baratro della cocaina nel quale era caduta la ragazza, gli ostacoli sono stati davvero tanti eppure ce l'avevano fatta Nunzio era disposto a fare qualsiasi cosa per Chiara, tanto che quando la ragazza gli chiese di fuggire con lei, lui accettò Poi la Petrona ha deciso di vivere la sua vita di latitante da sola, senza coinvolgere il figlio di Franco Katia e Franco cercheranno di stare vicino a Nunzio, ma il ragazzo rifiuterà qualsiasi tipo di aiuto Con le partite clandestine a poker vorrà pagare investigatore privato che si metterà sulle tracce di Chiara Non si escludono colpi di testa per lui e Franco sarà preoccupatissimo che suo figlio sparisca da un momento all'altro Cammarota dopo tutto si dimostrerà fuori controllo e scatenerà il panico a tutti Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video